Happy Christmas Chi è? L'albero è toccato qualcosa Stai dietro un albero Vabbè Triccio Buongiorno Buongiorno Ragazzi e ragazzi Oggi siamo ritornati qui con un nuovissimo video Aga Questo video si tratta di un nuovissimo Cambiamo I parentari di Natale Nel 8 appunto ci siamo rimasti molto male Però qui Vediamo che nel 9 Nel 9 ci sarà Qualcosa di più buono E allora raga Quindi mancano 15 giorni alla vigilia E 16 giorni a Natale Qui abbiamo Magic Christmas e quindi che dire Iniziamo? Iniziamo Allora cominciamo da questo qui Miraculous No iniziamo da questo perchè è la salata mia Babbo Natale Pronto qui 9 eccolo Questa volta è uscito il cioccolato Il cioccolatino è uscito come l'altra volta E' uscito come E' uscito come usci dentro a Miraculous Se no si vedrà che è un po' di più Poi lasciamo Miraculous Vabbè c'è La surprise Confetti pop Le sorprese sono il top Non trovo il nome 23 La Novi dove sta eccolo Dove sta? Ecco Uno scogliattolo Uno scogliattolo Se non mi sbaglio uscire Ah raga questi qui li stanno scogliando Infatti sinceramente la prossima volta Non li apriamo proprio Scherziamo Beh no resta sempre qua Raga io questi qui non vi consiglio Perché non sono dei miei Particolari E per me il calendario dell'avvento Deve avere delle cose particolari Ok Mi ho già aperto ed è uscito lo scogliattolo Quindi non mi aspettavo Poi nell'ultimo Nel 24 Da rimani voti a questi calendari Io inizio A questo No devo iniziare io No Sì Oggi inizio da M&M Se ho aperto qualche Ecco no Ok Sì stavo avendo il 16 Ma mi si è aperto Apriamo il 9 No Lo sapete se lo vedo Eccolo Saranno sempre quelle barrette Sì Ma questo è quello che c'è qui dentro C'è una caramella Mars Vabbè Ora apriamo sempre le 9 Qua uscirà sempre quegli ovetti Non c'è Non c'è mai C'è Ah no È uscito un orsacchiotto Dai Dai Carino Happy Happy New Year Eccolo qui E' carino però dai No è bellissimo Vai Kinder Andiamo in Kinder Speriamo che ci dà qualcosa Con la colla a caldo Allora il 9,9 eccolo qui Eh vabbè una barretta Bello questo da aprire però Io l'ho già aperto Io l'ho già aperto Che cos'è? No io no E' un ovetto Questi sono molto buoni Però Vabbè Comuncio questi sono i prodotti che escono dentro Kinder 9 9 9 9 Eccolo Oh E' grandissimo Vai Spera che mi aspetta qualcosa Caramelle Evviva Giulia questa è la voglia di io Non c'erano tutte e due Ok Stai calma che c'hai pure Ah sono gli orecchietti Credevo che era Andiamo in Milka Secondo me c'è un secco di gusto perché è rossissima Cioè non so se si vede da tutto Andiamo in Milka E poi mangiamo quello Oggi anche qui c'è Magic Magic Christmas Secondo voi sempre Magic Christmas Ok Questo è buonissimo Giulia Questo è buonissimo A me mi piace il pupazzo di neve Questo ha la parte bianca sotto perché ci uscì il pupazzo di neve No non c'è la parte bianca Si Io l'ho mangiato No Io l'ho mangiato Vabbè vai Ecco E niente Apriamo quello Ok ora facciamo Ma va Giù voglio un morso aspetta Voglio un morso Eccolo un dettaglio Mmm 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 Raga qualcuno questa qua Un po' la conseguiamo Un po' la conseguiamo Un po' la conseguiamo Vabbè Vabbè Sì Questa Mmm Mangia e lasciami questo pezzetto Cioè Hai capito no? Mmm Basta Un attimo Stacca Stop Allora vai Facciamo la fine e poi mangiamo 3 2 1 Go Quindi ragazzi questo era il video Spero vi sia piaciuto A me che è piaciuto tantissimo Questa volta questo countdown ci è piaciuto? No questa volta mi è piaciuto tanto dell'arbo Ma a me è piaciuto un po' in tutto Perché comunque Allora gli amici sono stati Forse magari ci saranno dei video extra Stasera Vi ricordo che io Margie Cioè amore pure Se vi è piaciuto lasciate like, commentate, iscrivetevi al canale Se vi è piaciuto Io mi vado a mandare qui Ok Che